Musica Salve a tutti voi compilabuilders da Dead Orange A quest'oggi ragazzi facciamo finalmente l'unboxing di un kit che attendevo da un casino di tempo Perché finalmente ce l'ho finalmente Signore e signore oggi facciamo l'unboxing di questo fantastico e bellissimo Gundam Animal Rights stato dal manga di Gundam Build Ivers Rights Cominciamo subitissimo analizzando la scatola che è veramente molto figa Secondo me ragazzi questa scatola qui a livello in genere è secondo me forse la seconda migliore assoluto scatola Secondo me si pensa dopo la The Jupiter Gundam perché veramente è fatta molto bene Mi chiedo di dire proprio sul Gundam Core Non proprio sulle altre modelli perché ce ne sono delle altre molto più valide Comunque sì qui troviamo il logo HG Build Ivers Qui non troviamo il logo della serie Gundam Build Ivers Rights Ma troviamo quello in pratica di game del manga che è Gundam Build Ivers Rights Poi sullo sfondo in questa bellissima box troviamo in pratica il core Gundam qui rosso Che è davvero molto figo devo dire E tra l'altro lo scuote mi sono detto prima dai colori e da come sembra Secondo me mi sembra che sia un parecchio ispirato E un po' in pratica il Gundam RX-78 2 Casval diciamo in pratica Che utilizza in pratica ma vabbè c'è un'altra storia Comunque sia veramente molto figo Con anche alcuni pezzi in volo Sfortunatamente non utilizza una jetta voglio dire E secondo me è un piccolissimo peccato Ma vabbè comunque sia Poi qui troviamo in gigante il nostro Gundam Animal Rights Che è veramente molto figo Con questo suo effetto qui della Beam Saber Che è veramente molto figo E dopo ci arriviamo Poi qui troviamo il QR Code Che ci invita ad andare sui tu per vedere Gli episodi della serie Gundam Build Ivers Vabbè cosa che personalmente questo QR Code qui Io preferirei ritolto perché un pochino viene a polla la boxata Poi qui troviamo la scritta Gundam Animal Rights Rights Mobile Suit Purtroppo che non ha identificato il nome del suo pilota Il costruttore Poi troviamo il logo in blu E la data di fabbricazione che è Bandai Spirits 2020 in Made in Japan In questo primo allato lungo della scatola Troviamo alcune informazioni in pratica sul core Gundam E diciamo che sui spatti della matura Sono molto interessanti Di cui tra l'altro alcuni simboli Valgamente mi ricordano un pochino quelli dei Transformers Come gli Autobot Diciamo Boh Secondo me è una piccola somiglianza Che noto solamente io Per cui troviamo in pratica il nostro Gundam Animal Rights In varie pose in action Contra l'altro la sua bellissima Beam Saber Che ha questo effetto qui Che secondo me è fantastico Perché rappresenta molto bene Poi in pratica come erano le Beam Saber In originale Voglio dire che ci dovranno anche pregare Per alcuni attacchi Perché non sono come le spade laser di Star Wars E secondo me questa cosa qui è veramente molto figa Che hanno messo anche un effetto di questo simbolo genere qui Quindi secondo me va ad amplificare molto di più il modello Potremmo avere altre scritte in inglese molto interessanti per il nostro modello E anche un piccolissimo invito a comprare Anche per chi non ce l'ha in pratica Il Mask for Gundam e il Mask for Weapons Per andare a trasformarlo in questo modello di delito qui O per combinarlo anche con le altre armature Stranamente l'hanno messo in pratica L'informazione di un altro packer Che era possibile mettere Una specie di armatura a dorsetto Voglio dire Boh è un peccato che non l'abbiano messo Ma vabbè comunque sia anche così Devo dire che ci sta davvero molto figo Nei due lati corti da scatola Qui e qui Troviamo l'immagine in prestito della box set Sul nostro modello I log KG Build Divers Every E anche diciamo la cosa anche del manga Gundam Build Divers Rides Poi vabbè troviamo il logo in blu Il nome Gundam Animal Rides E il nome progressivo 34 Che questo qui ci indica che questo è il 34esimo kit Dato dalla serie in pratica Ed infine nell'altro lato lungo della scatola Troviamo un front view E un right view su questo modello Qua diciamo una mini biografia su questo modello E un po' sulla sua storia principale Che non vi vado a legge Ma che se volete leggere Mettete il video in pausa adesso Poi troviamo una introduction Dichiamo un po' a questa cosa qui Che dovrebbe essere sul manga Con anche questa bellissima immagine Che secondo me è veramente molto fichissima E poi purtroppo nulla di più Perché non hanno più nemmeno messo il prezzo In niente Vabbè ragazzi Dopo questo punto qua Vediamo subito cosa c'è Entrano da scatola Allora Qui troviamo il manuale di discussione Come sempre posiziono di soap E poi troviamo Ben Cinque pacchetti Cinque pacchetti Allora Il primo Con queste varie ranna Alcune tasparenti Fighe Secondo pacchetto Con ranna in bianco e neve Ok Quest'altro pacchetto Con ranna rossa E questa parte Mi sembra anche un po' reciclata Dall'Uriven Gunther E poi Ed infine L'ultimo pacchetto Che è questo qui Troviamo Parti in nero Parti in giallo Ah c'è anche l'ultimo Con parti in giallo E poi L'ultimo Carini Vabbè ragazzi Dopo questo punto qua Vediamo per bene Qui nel dettaglio La ranna di questo modello La prima ranna È la ranna A Questa ranna qui Multicolor Con tante parti Molto interessanti Allora Che di base Le parti importanti Per questo modello Qui da assemblare Non sono praticamente Questa parte Qua Voglio dire Trasparente Sono su di base Solamente Questa qui Che monta un nuovo Sistemina Qui interessante Sul petto La mettere E queste parti qui Che sono ricolorate Da giallo A questo colore Arancione E poi in questo colore Qui rossato Che un pochino Ricorda anche un po' Quello che ho trovato Anche sul colore Gundam Dell'Earthry Mentre invece Queste altre parti Qui trasparenti Sì che sono anche Molto belle Sono un po' Un riciclo Dell'Earthry Gundam Però di base Da quanto ho visto Che non si andranno A mente Saranno opzionali Però devo dire Che hanno un bel effetto Perché sono trasparenti Ed effettivamente Un tipo di pezzi Così in clear color Ci stanno veramente Molto bene Che mi mancavano Questi pezzi qui Quindi veramente E' veramente Un'ottima scelta Magari potrei Avere un secondo Io utilizzo Per queste parti Qualcattoprogetto Interessante La seconda È la ranna B1 Questa ranna Qui totalmente Qui in grosso Sempre ciclata Dalla F. Gundam Semplicemente Ci sono tutte le varie Parti colorate Di rosso Invece che da bianco Tutto qui Ci sono anche Delle parti Un po' Più inutili Voglio dire Tipo questa qui Dello scudo E anche Anche questa qui Sul backpack Più il V-Fin E la parte a testa Che non credo Che comunque Si andranno a metta Ma comunque Siamo a dire Comunque interessante Tema Anche poi Modellista Di ritorno Che magari Potrebbe anche Ad realizzare Anche una versione Proprio Sul core Gundam Casval Voglio dire O di Shara Snable Voglio dire Ci sarebbe anche Molto bene Effettivamente La piccolissima Custom Mi è dato anche In futuro Con un secondo Modello Di Gundam Animal Rights Perché forse Ci potrebbe anche Stare molto bene Poi c'è La ranna C Che è sempre Un'altra ranna Riciclata Dai vela Sul core Gundam Ci sono Vari parti Per l'articolazione Alcune parti Per i piedi Per le parti Delle mani Nulla di che Di particolare Ma ho idea Anche alcune parti Perché non si andranno A assemblare Tipo Questa qui Dello scudo Oppure Oppure Altre Che non so Per bene Comunque E tra l'altro Spero Una piccolissima Cosa Che questa ranna Che non sia Presa Dalla F Gundam Ma ha messi Dal Jupiter Gundam Perché se Ricordate Benissimo La riva Dal Jupiter Gundam Diciamo Veramente Di ottima Qualità Lo sparo Bene Perché Proprio Quelle Della F La qualità Non è che Mi era Molto Piaciuta Poi c'è La ranna D Una ranna Riciclata Dal kit Del Raven Gundam Ci sono Belle Vari parti Che non andiamo Sicuramente A utilizzare Questa Qui Per la Basetta Mi sembra Questa Qui Però Forse L'autizio Ma che Fai Proprio Nella Basetta Proprio Specializzata E Nulla Di Alcune Mani Intercambiabili Alcune Parti Più Parlate Quello Non so Se Queste Andiamo Ad Utizzare Potremmo Ancora Utizzare Le parti Nuove Non Lo so E Non Ho Capito Io Perché Qui C'è Un po' Di Casino Perché Tante Tante Parti Di Ciclo Per Questo Kit Qui E Poi C'ha La RUN E 1 E La RUN E 2 Allora Nella RUN E 1 Troviamo Alcune Parti La Bassa Per Lo Scudo Questo Qui Per Un Nuovi Finn Che Va A Mettersi Quando È Proprio Una Mortata A Anima Rides Alcune Parti Per Il Boost E Una Qua Per Il Braccia Ma Molto Carina Mettere Invece Nella RUN E 2 Troviamo Alcune Parti Che Non Sono Riuscite A Staccare Tutto Qui E Poi C'è La RUN E F Questa RUN Qui Di Base Due Parti Per Le Gambe Più Anche Due Parti Per Le Piedi E Alcune Parti Anche Per Le articolazioni Carina Comunque Poi C'è La Panna G1 E La Panna G2 Allora Nella Panna G1 Troviamo Le Alcune Panna G2 Troviamo Sommette Delle Altre Parti In Più Che Non Ci Potevano Stare Meglio Diciamo Mezzaranna E Poi In Questi Qui Sono Comparsi Policlaps O Meglio Questi Pc 002 Che Sono Policlaps Reciclati Da Nel 2013 Nulla Di Particolare Sono Classici Policlaps Semplicemente L'unica Parti Che Sono Utilizzata Questo Modello Sono Queste Qui Foglietto Argentato Troviamo Le Decals Per Questo Modello Che Hanno Il Simbolo Di Animali Devo Dire Che Sono Molto Fighe Proprio Anche Come Sono Realizzate In Praticamente Questo Qui Verde Ricorda Un pochettino La Lontanissima Non Saperi Che A Memo Ricorda Un Casino Per Simbolo Che C'era Degli Autobot De Transformers Molto Fighe Comunque Anche Come Tra L'alto Il Fatto Che Questo Modello Qui C'ha Le Telecamere In Generale Le Parti In Colore Blu Invece Che In Colore Verde Diamo Come Sempre Una Analisi E Manuele Di Istruzioni Di Anche Sul Cora Gundam Rides Che Viene Chiamato Effettivamente Che Avviene Dalla Manga Che Tra L'altro Devo Ancora Vareggia Mime E Non Temete Lo Reperio Al Più Presto E Qui Trovo Anche Sul Pilota Costruttore Che Tetsuya Yuragi Che Non È Qui Comunque Ci Ci Sono Varie Informazioni Molto Interessanti Che Non Vi Vado A Legger Ma Se Volete Legger Vedete Il Video In Pausa Adesso Mentre Invece Guardando Il Manuale Dall'altra Parte Troviamo Il Customize Plan Per Il Posso Fare L'Esperimento Però Forse Magari Potrebbe Anche Facile Sarà Carino Mentre Invece Poi Prendo Il Manuale In Questa Parte Qui Troviamo Una Lista Con Tutte Le Prana Di Questo Modello E Di Vedete Dove Si Conclude Proprio Qui Come Si Costruiscono Le Ultime Parti E Si Vanno Ad Agganciare Al Nostro Modello E Formano Pienamente Il Gundam Animal Rise Devo Dire Che Come Istruzioni Comunque Sia Sono Vero Molto Fighe Bene Dire Che Con Questo Unboxing Si Conclude Qui Adesso Non Mi Resta Che Assembrare Il Siamo Benissimo La Bandai Purtroppo Non Ha Fatto Diciamo Molto Bene Spesso Hanno Ci Stato Di Un Altare Colorata Se Avete Visto Un Po Le Dubito Però Sono Comunque Sia Molto Curioso Proprio Ah E Perché Sto Sto Chiedendo Per Questi Diburi Che Si Mi Tiene Andano Per Le Valle Perché Non Ho Letto Il Manga Vi Dico Già Una Cosa Non Temete Il Manga Ho Intenzione Comunque Di Reparirlo Molto Presto Uscire Prima Poi Leggere Qualcosa Come Le Scane Su Internet A Meno Che Il Manga Non L'ho Import In Italia Ma Comunque Sia Perché Chiaramente Questo Modello Qui Mi Attega Un Casino E Sono Molto Curioso Ma Ragazzi Con Belli Novità Molto Interessanti Anche A Tema Sul Modellismo Ma Mi Accomando Quindi Seguitela Perché Inoltre Troverete Tutte Le Anche Tante Tante Rai Chiche Molto Fighi Anche Per I Collezionisti Bene Ragazzi Direi che Con Questo È Proprio Tutto Noi